Bisognerà attendere Ferragosto per la ratifica della nomina, ma di fatto Flavio Frassone è il nuovo presidente del Consiglio di Gestione di Etra, la multi-utility che fornisce servizi a 69 comuni tra Padova e Vicenza. Una governance rinnovata con la scelta del nome di Frassone, volto noto della politica del territorio. Trovo un'azienda solida da tutti i punti di vista, dal punto di vista del bilancio, dal punto di vista del personale. È un'azienda dove bisognerà ritrovare un po' più di serenità nell'ambiente interno, un po' più di fiducia tra i lavoratori e un po' più di squadra. Senz'altro dovremo lavorare su questo aspetto. Attenzione agli utenti con investimenti all'insegna delle politiche green. Ecco gli obiettivi di Frassone. Credo che Etra abbia un ruolo strategico per quello che riguardano le politiche un po' green dell'ambiente. E quindi qui gli obiettivi li individueremo insieme con i sindaci, verso i quali io porto molto rispetto, anzi li devo ringraziare tutti quanti per l'indicazione che hanno dato sul mio nome. La sua nomine è stata però accompagnata da una polemica tutta politica che vede la Lega, grande promotrice del nome di Frassone, con il beneplacito del PD, ma non degli storici alleati di centrodestra di Fratelli d'Italia. Passata questa fase di votazione dimenticherò chi mi ha votato e chi non mi ha votato e quindi sarò a disposizione di tutti i sindaci che sono soci dell'azienda perché è un'azienda completamente pubblica. Io so che sul mio nome comunque c'è stata un'ampia convergenza, soprattutto dei partiti di centrodestra, ma mi pare che anche il PD abbia appoggiato il mio nome per cui non ho grosse preoccupazioni.